un saluto a tutti amici del web io sono Dato Bax bentornati sul mio secondo canale siamo qui in questa fuga per per la vita come dice come dice il titolo di questa parte e qui Hitman cambia praticamente stile perché da cacciatori diventeremo prede o meglio cercheremo di non diventarlo molto cinematografica questa parte molto gioco action però ripeto Hitman giocato a purista dal suo meglio come gioco action e stealth giocato come gioco action diventa qualcosa davvero impossibile ok vediamo se riusciamo a farlo anche questa volta senza morire ok ok Grazie a tutti. Ok ci siamo signori, qua si muore spesso, quindi davvero ci vuole una grande attenzione, vediamo che cosa riusciamo a fare. Grazie. 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 Ho appena ucciso qualcuno, per ora non vedo l'assassino. Ehi, qualcuno ha visto cosa è successo? Mi sentite? No. Centrale? Ehi. Ehi. Dipartimento di Polizia di Chicago, fermo dove sei. Tutti quanti... Signore, andate all'estate. Ehi, ho fatto qualcosa? Ok ragazzi. Bene. A me... Ti dico la verità... Secondo me Hitman si può giocare in tante maniere differenti. Si può giocare come gioco, ok? Quindi... Provando a uccidere tutti e a fare tante cose... Però io personalmente... Scappiamo. Mi piace... Giocare come se... Io fossi davvero agente 47, quindi... Cercando di non morire mai, anche a costo di... E scappare... Il sospetto si dirige verso di voi. E parlo anche di meno per cercare di farvi... Entrare... Insieme a me nella... In come mi sto immedesimando anche io. Benissimo. Forse il travestimento è lo stesso del nostro. Un po' differente. Ok. Un po' di mecelino il nostro... Un po' di mecelino... Un po' di mecelino è troppo più thisi... Un po' di mecelino... Ma chi cazzo è quel tipo? Salda dai palazzi, schiva il fuoco degli elicotteri. Ma... ma che succede? Deve essere un ex militare. Sai, mio cugino Anthony ha impura un sacco di reduci col... col... di BTS. E alcuni, beh, quando danno di matto, danno di matto. Ok. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. O meglio, non ce l'abbiamo fatta. Ora viene... Una parte... Più, più difficile. Ok. Non ci vogliono dividire. Non è forse bene. E aspetta un po' dopo. Bel posticino ti sei trovato. Cosa c'è? Puoi entrare a me? Tutti possono entrare qui. Noi non crediamo nella proprietà privata. Ma il tuo grande capo... Questo caracombo si spaventa un ragazzo. Ma il tuo grande capo... Lo conosco. Ehi! Tu non mi piace a me. Benissimo. Ci è andata bene ragazzi. Ci è andata davvero bene. Ci è andata bene.